buongiorno siamo con giuseppe torrisi per gli amici pippo attore teatrale attore di cinema attore di fiction di paterno principalmente giuseppe o vuoi essere chiamato pippo no pippo dai pippo 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 mi è più familiare ultimamente hai fatto un tuo intervento che lo possono trovare tutti i cittadini su tik tok inerente le dighe in sicilia e gli invasi vuoti se ne è parlato tanto in quest'ultimo periodo di siccità fortunatamente adesso grazie al cielo grazie al cielo è il caso di dire sta piovendo perché la pioggia mi pare che viene dal cielo no si stranamente si è come quando fanno il vino con l'uva oppure l'olio con le olive è strano ma si fa anche quello stranamente l'uomo si è evoluto chiaramente nel corso dei millenni adesso con le nuove tecnologie fanno anche il vino con l'uva e l'olio delle olive quindi la pioggia scende dal cielo grazie dobbiamo dire grazie al cielo quasi adesso ti sta portando dolore sono tante le cose sicuramente cosa ti sta dando fastidio ultimo periodo sono tante le cose però non è in quest'ultimo periodo si parla di anni che sta cosa volevo palesarla chiaramente allora io abito in campagna quindi la dico tutta e non ho acqua potabile per quella vado a prendere nelle fontane dove capita forse si sente che abito in campagna sì sì di fatti c'è la faraona che fa il suo verso nefertiti sì la faraona nefertari sì 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 c'è anche cleopatra sì perché è morto tutankamon l'altro giorno mi ha fatto una pena bestiale forse è morto anche lei sì no non ancora non costa zitta e basta capisce che stiamo intervistando e quindi non rompere scatole povera bestia come stavo dicendo questa è una cosa che da anni volevo volevo palesare io ci fu un giorno che andai a prendere dell'acqua in una di queste fontane di paterno e lì vicino proprio dietro la fontana c'era della spazzatura parecchia spazzatura tantissima spazzatura aspettando il mio turno c'era un signore davanti a me e disse questa frase la colpa di quel puntini puntini non sto ad elencare chiaramente cosa cosa gli scappò di bocca del sindaco quindi di minonasso e dell'amministrazione e c'è questa spazzatura perché io quando arrivai dissi solo che schifo dove dobbiamo prendere l'acqua c'è tanta spazio tanta sporcizia e lui la serie dice la colpa è due puntini puntini del sindaco e anche dell'amministrazione io aspettai pochi secondi per elaborare quello che gli devo dire anche perché era giusto che lui si rendesse conto di avere ragione no aveva colpito nel segno e quindi dico però dico sti delinquenti ma di che sorta di cosa noi abbiamo un sindaco e assessori sta giunta comunale che invece la notte di andare a dormire a casa con le proprie mogli chiaramente nel proprio letto nuziale vanno in giro con la macchina sti delinquenti a buttare buste di spazzatura ma cosa dico io le arresterei e questo dice come c'è il sindaco e gli assessori ecco lei mi ha detto poc'anzi che la colpa è di questi signori qua no quindi sono loro no non sono c'è loro che buttano la spazzatura nel senso che la colpa è va dice comunque dell'amministrazione ha detto capito quindi non è colpa degli sporcaccioni che buttano la spazzatura la colpa è dell'amministrazione però ci potrebbero pulire giusto sappiamo però che siamo a paternò puliscono oggi l'indomani lo stesso porco va a buttare di quell'altra spazzatura quindi semmai dico le dovrei dar ragione se lei mi diceva perché non mettono delle telecamere nascoste per giustamente punire i vari sporcaccioni questo sì le posso dare ragione ma non si mette a dire che la colpa è del sindaco ma io non sto volendo difendere nessuno per l'amor di dio e non perché c'è nino naso ci poteva essere qualsiasi sindaco a paternò avrei detto la stessa cosa perché mia suocera abita a paternò i miei figli abitano a paternò e la nettezza urbana cioè funziona ci sono i giorni prestabiliti per quello che l'umido la plastica il vetro o quant'altro e nei giorni prestabiliti funziona quindi non capisco perché ci sono questi li vogliamo chiamare porci con il loro vero nome che si fermano in periferia e lanciano le buste ma queste addirittura che dicevo io stavo andando e si trova in paese quindi signori per cortesia ripeto non sto facendo politica non voglio difendere nessuno perché ci poteva essere qualsiasi sindaco di qualsiasi colore politico e faceva funzionare come sta funzionando la nettezza urbana paternò se vanno a prendere la spazzatura nei giorni prestabiliti differenziata lo avrei difeso lo stesso anche se non lo conosci non sai manco chi è non ci hai mai avuto il piacere di parlarci o meno con nino ho avuto diverse volte il piacere di parlarci ci conosciamo da ragazzi non significa nulla non significa nulla c'era ci poteva essere virgolini ci poteva essere qualsiasi altra persona lo avrei difeso lo stesso i porci non sono gli amministratori ma la gente che butta la spazzatura ora bisognerebbe dire a queste persone che la plastica che viene buttata perché la spazzatura è messa nelle buste chiaramente la plastica che viene buttata con i raggi solari si sfalda e siccome quando si sfalda non si vede più diventano microplastiche le microplastiche le porta via il vento vanno a finire nei terreni la pianta se ne nutre anche e noi le mangiamo le microplastiche non sono non è niente che possiamo debellare del corpo né con la pipì né con altro rimarranno nei polmoni rimarranno addosso a noi ai nostri figli o ai nostri nipoti quindi mi piacerebbe far capire queste persone ma la vogliamo finire di inquinare inutilmente vistosi che la raccolta funziona io per esempio vado a tre fontane a buttare la spazzatura differenziata quindi perché e c'è spazzatura a 20 metri a 30 metri ma dico se ti stai rompendo l'osso del collo a buttarla a 20 a 30 metri e ci vuole a farne altri 30 e a depositare e no perché ci secchiamo chiaramente si vede che questo e poi la devono differenziare devono mettere il vetro da una parte la carta dall'altra uh quanta fatica però quando qualcuno ci ha imposto quando qualcuno ci ha imposto che non si poteva uscire senza mascherina che non si poteva andare a trovare i propri figli nipoti fuori paese che si doveva rientrare l'otto e mezzo di sera perché c'erano i verbali eccetera 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 nel giro di pochi giorni tutti tutti tranquilli tutti con le mascherine tutti con le amuchine tutti che consigliavamo agli altri mi raccomando sopra il naso ma allora ci vogliono i verbali seri ci vuole qualcuno che insomma faccia pagare tutto quello che succede e allora per paura per paura di multe salate quello che non so se avviene o meno purtroppo allora la gente si comporta in modo civile civile o meno cioè direi come gli viene dettato dalle leggi in vigore in quel momento quindi ci vuole il castigo e allora la gente capisce ma perché ci vuole perché dobbiamo farci castigare non siamo bambini come quando i nostri papà le nostre mamme ci scolacciavano per aver fatto qualcosa di brutto ma siamo arrivati qua a questo punto e perché quindi signori l'invito che vi faccio è questo intanto è inutile sparlare di un'amministrazione che comunque per quello che riguarda la nettezza urbana sta funzionando perfettamente dico perfettamente ma finiamola di sporcare il paese di addossare colpi agli altri di inquinare il terreno i terreni i fiumi le acque se andate dove ci sono i ruscelli chiamati i sai a paternò troverete lo schifo nasciata dei mulini chiamata dai copertoni di macchine camion a paraurti e vetri eccetera eccetera e latte e plastica ma che schifo è ma è possibile che ogni luogo debba diventare una discarica abusiva a cielo aperto non dimentichiamoci che siamo di paternò e adesso ma io mi ricordo già da bambino paternò era abbastanza civile passava quello che chiamavamo un spazzino anche nelle viuzze con la ramazza il suo carrettino e mi ricordo quella voce ce l'ho ancora la spazzatura perché gli davi la spazzatura adesso che c'è internet la televisione i figli a scuola istruiti laureati diplomati eccetera eccetera facciamo più schifo di prima quando notoriamente eravamo più indietro perché non c'era questa civiltà no eravamo più civili allora quindi la vogliamo è una coccinella guardate che carina quindi la vogliamo finire per cortesia l'invito che faccio agli amici paternesi è questo cerchiamo di finirla e non ce la prendiamo con chi in effetti in effetti magari per altre cose chissà in effetti non c'entra assolutamente nulla arrivederci a a a a a a a a Grazie.